Ciao a tutti, benvenuti e bentornati su My Beauty Fair. Non era previsto che filmassi questo video oggi, infatti come potete vedere mi sono truccata al volo e indosso un make-up leggerissimo perché pensavo di poterlo filmare domani, però domani mi è sopraggiunto un impegno improrogabile e quindi ho dovuto un attimo rivedere la mia programmazione. Preferiti di maggio, parliamo dei prodotti che ho come sempre, lo sapete ormai no? Che ho amato, utilizzato, apprezzato oppure scoperto nel corso dell'ultimo mese, ci sono come sempre un po' di prodotti misti abbiamo make-up e skin care questo giro, non c'è nient'altro appartenente ad altre categorie voglio raccontarvi che cosa hanno di speciale per me, quali sono i motivi per i quali ho utilizzati di più ultimamente e niente, vi lascio al video, non dimenticate prima di cominciare di iscrivervi al canale cliccando qui sotto nell'info box e ricordate che vi aspetto sempre tutti a braccia aperte sul mio profilo Instagram Giovanna Lovison voglio partire dal make-up, ho due palette, la mia passione o meglio ossessione, chiamiamola con il suo nome per le palette ha visto un picco drastico nel corso degli ultimi anni una volta non me ne perdevo una, adesso sono poche quelle che catturano la mia attenzione ma ce ne sono due che per due motivi diversi questo mese sono state le mie preferite più utilizzate in assoluto parto da questa, la famosissima Tarte Lette in Bloom, una palette di ombretti Tarte è la mia palette preferita nella vita per quanto riguarda sia le palette in generale ma anche per quanto riguarda le palette sui toni del nude vi ho parlato di questa palette cento volte nel corso degli anni l'ho sempre descritta come la mia preferita della vita e nonostante siano passati gli anni e abbia provato un sacco di palette nuove rimane sempre la mia preferita della vita per quanto riguarda gli ombretti è stupenda, io la adoro ha un mix di ombretti matt, satinati, shimmer, declinati in queste tonalità che vedete qui sono neutri, davvero neutri non sono neutri freddi, non sono neutri che vinono verso il caldo e l'aranciato sono proprio neutri neutri questa riga qui è la mia preferita in assoluto adoro da morire anche questo ombretto per la piega di transizione è perfetta e mi è capitato anche di utilizzarlo come bronzer quando mi è capitato insomma di trovarmi fuori casa e di dimenticarla a casa non nell'ultimo mese ma in passato insomma da quando la possiedo questo ombretto bronzo è una cosa che non posso descrivere è la perfezione io veramente trovo che sia una delle tonalità più belle che l'umano abbia partorito per quanto riguarda il make up sfumabilità ottima, incredibile questi ombretti sono burro durano tantissimo fanno un'ottima presa sulla palpebra nonostante li possiate applicare anche senza primer io il primer lo uso veramente raramente con questi ombretti non ho mai problemi il packaging è molto carino esteticamente ma anche bello strutturato compatto, facile da trasportare e sono felicissima di parlarvene perché finalmente Tarte è arrivato da Sephora quindi lo potete acquistare nei negozi oppure online senza lo spauracchio della dogana quindi questa palette per me è un must have assoluto la seconda palette invece è siamo agli opposti perché non solo non è una palette di soli ombretti come questi ma non è una palette storica è una palette nuova di zecca ed è questa palette qui di Charlotte Tilbury si chiama, scusate non riesco a infilarmi in testa il nome Instant Look of Love in a palette ma si chiama Pretty Blushed Beauty il nome è Pretty Blushed Beauty è la più chiara tra le due palette uscite nella collezione Look of Love per la primavera estate di Charlotte Tilbury è una palette composta da ombretti qui sulla prima riga e da prodotti per la base invece abbiamo un bronzer abbiamo un illuminante, un blush e una cipria quindi abbiamo tutto ciò che serve per un look completo per quanto riguarda il colore quindi dovete portarvi dietro un fondotinta un mascara, prodotti per sopracciglia, rossetto boh siete a posto, con questo avete fatto tutto mi piace da morire la selezione colori mi piace da morire la sfumabilità, la qualità delle polveri Charlotte Tilbury fa delle polveri, si è viso occhi che sono, se le avete provate sapete che sono fenomenali sono proprio di un livello superiore e questa palette non è da meno questa qui è la famosissima cipria airbrush flawless finish che è la mia preferita della vita è la stessa identica formula, lo stesso prodotto quindi potrete anche provarla in questa palette comoda, compatta, per viaggiare oppure anche per avere tutto insomma portata per un look completo è favolosa questa è la più chiara tra le due come dicevo prima anche la più scura è bellissima questa l'ho ricevuta dal brand la più scura invece l'ho comprata e sto utilizzando questa perché l'altra è troppo scura per me in questo momento per poterla usare a 360 gradi bronzer e illuminante sono un po' troppo scuri e questa invece è perfetta per le pelli chiare medio chiare, chiare ba e questa invece è perfetta per le pelli molto chiare chiare oppure medio chiare tipo la mia al momento e niente, è una palette favolosa e dateci un'occhiata perché secondo me è davvero un pezzo su cui conviene la pena investire voglio segnalarvi la combo mascara che sto utilizzando ultimamente non soltanto nel mese di maggio ma ho utilizzato anche per buona parte del mese di aprile sto abbinando questi due prodotti che sono di due fasce di prezzo e di due brand diversi il primo è il Lash Paradise Primer di L'Oreal è la base per mascara di L'Oreal io adoro il mascara Lash Paradise quello nel packaging color rosa è uno dei mascara migliori che secondo me non solo esistano ma che esistano anche soprattutto nella categoria low cost questa è una delle classiche basi per ombretto bianche sono bianche anche nella formula quando le applicate le ciglia proprio diventano bianche e la cosa è utile perché vedete bene quanto ne avete messa come l'avete distribuita se è uniforme e questo vi permette anche di vedere subito la differenza perché notate fin dove arriva il prodotto e come fa bene il suo lavoro dopo aver applicato la base per ombretto che da sola dà un bel look già dà una bella botta di volume incredibile già da sola io ho usato per anni quella di Dior poi ho scoperto questa costa un terzo ed è altrettanto efficace quindi consiglio questa poi se vi piace Dior se volete acquistare un pezzo di make up di Dior ma va benissimo io sono la prima che a volte spende di più di quanto dovrebbe solo per il gusto di farlo però vi assicuro che fa il suo lavoro in maniera eccelsa e dopo averla applicata aspetto circa un minuto o due in modo tale che si asciughi e passo al mascara vero e proprio il mio preferito del momento è il legendary lashes di Charlotte Tilbury che è forse anzi senza il forse è il mascara più sottovalutato di Charlotte Tilbury quello del quale si sente parlare meno ma secondo me è di gran lunga il migliore Charlotte Tilbury nella sua gamma ha tre mascara ci sono il full fat lashes il primo uscito il primissimo uscito proprio all'inizio quando è stato lanciato il brand poi dopo qualche anno è uscito il legendary lashes e con un packaging praticamente identico a questo ma uno scovolino in setole di silicone e dopo pochissimo penso dopo un anno forse due ma meno è stato riformulato nel legendary lashes 2 che è questo qui la prima formula non è stata molto soddisfacente quindi hanno subito aggiustata hanno rivisto il mascara di recente invece è uscito il Pilotolk Push Up Lashes che è l'ultimo l'ultimo del che il brand ha lanciato questo qui è favoloso ha uno scovolino in setole tradizionali cicciotto fitto molto molto simile a quello del Lash Paradise devo dire la verità ma riesce a dare un volume una pienezza le ciglia è nero volumizza allunga tantissimo da proprio un effetto drammatico alle ciglia mi piace da pazzi è sicuramente il mio preferito tra tutti i tre del brand e trovo che già da solo l'effetto è fenomenale ma abbinato a questo primer per ciglia viene fuori una combo veramente micidiale quindi non posso che che consigliarvi insomma di provarlo se amate gli scovolini cicciotti effetto lungo drammatico questa combo sono sicura che conquisterà anche voi mi rendo conto in questo momento di essere decisamente monotematica forse più monotematica del solito ma il terzo prodotto e ultimo prodotto di make up è di nuovo un prodotto di Charlotte Tilbury questo mese mi sono innamorata dei Tinted Love di Charlotte Tilbury Lip & Cheek Stain in realtà non sono prodotti che a me sono nuovi al 100% perché questo qui Santa Euphoria che è il nude è un prodotto che io possiedo da novembre a novembre erano usciti questi prodotti sul sito per un'anteprima una vendita velocissima flash di una settimana e avevo acquistato questa tonalità e quindi la utilizzo da allora recentemente con il lancio dell'ultima collezione Look of Love sono stati sono usciti ufficialmente tutti insomma sono ora disponibili a catalogo qui ho anche Petal Pink che ho ricevuto dal brand e sono in arrivo anche le altre tonalità perché le ho comprate le ho comprate tutti tranne il prugna ho lasciato stare solo il prugna ma ho preso Blushing Rose ho preso Love is a Chain ho preso Bohemian Kiss e basta dovrei averli poi tutti e mi piacciono da matti come dicevo nel mio video nel video review della collezione Look of Love che vi linko qua sopra e nel quale ho recensito anche i rossetti e le palette della collezione vi avevo raccontato come questi secondo me siano dei prodotti che non vanno bene per tutti non vanno bene per tutti perché ve li faccio vedere sul dorso della mano questo è il packaging hanno un packaging simile a quello di un gloss sono prodotti dalla texture vedete leggerissima e dal colore trasparente che possono essere modulati ma soprattutto nelle tonalità più chiare non diventano mai super mega intensi rimangono molto naturali sono prodotti che si utilizzano sulle labbra e sulle guance danno un leggero velo di colore che si fissa sono delle vere tinte non sono delle tinte per modo di dire e danno un bellissimo effetto naturale le labbra come se avesse avesse mangiato un ghiacciolo un gelato colorato che vi ha lasciato un po' di colore sulle guance queste sono vita più chiare hanno bisogno di essere caricate un po' perché si vedano bene quindi se non avete la pelle molto chi se avete la pelle chiara sono perfetti se avete la pelle media dovete metterne tanto però si possono modulare tranquillamente hanno una durata incredibile un effetto naturalissimo nel senso che non si vede materia sulla pelle o sulle labbra sembra che non indossiate niente sembra che sia davvero un rossore della vostra pelle e niente per me sono fantastici non vanno bene per chi cerca un effetto strong pieno intenso colore puro pigmento sul sul viso sulle labbra in quei casi potreste rimanere poco soddisfatti ma se vi piace un effetto leggero vedete l'effetto tinta di cui vi parlavo l'ho lasciato lavorare a tecchire per qualche secondo se vi piace l'effetto naturale loro sono veramente fantastici non è facile trovare dei prodotti così passando alla skin care io mi sono letteralmente allora del mio amore per il foreo ufo 2 ormai siete tutti a conoscenza questo è un device che vi permette di fare delle maschere no? vi permette di applicare una maschera un trattamento e in combinazione con impulsi di caldo freddo oppure di luci led di vibrazioni fa sì che gli attivi penetrino più in profondità e vengono assorbiti meglio dalla pelle adoro foreo lo adoro da morire e adoro foreo ve ne ho parlato un milione di volte per me è stata una scoperta incredibile e le maschere che ho scoperto questo mese sono queste qui sono fanno parte della linea farm e sono le manu kahani maschera revitalizzante ok? all'interno di questa confezione ce ne sono sei io ne ho avanzata soltanto una per farvi capire quante ne ho fatte nel corso dell'ultimo mese una settimana praticamente da quando le ho ricevute mi piacciono tantissimo hanno questo leggerissimo profumo delicato ma che si sente di miele e il siero di cui sono imbevute queste maschere somiglia molto anche al miele a livello sensoriale perché è un siero bianco e trasparente ma è un pochettino bastatemi il termine vischioso fila è un po' colloso quindi ha quella consistenza tipica del miele nonostante questo però vi assicuro che il siero non è assolutamente appiccicoso grasso pesante assolutamente una volta che avete terminato il trattamento con UFO potete massaggiare l'esubero come se applicaste un siero e lui si assorbe tranquillamente non è grasso unto non vi fate spaventare da questo e lascia la pelle tonica idratata elastica da morire e bella proprio visibilmente più bella non so come altro come altro descriverlo quindi se avete UFO o se decidete di acquistarlo e di provarlo date una chance a queste maschere perché secondo me sono favolose un altro prodotto che ho scoperto questo mese ed è veramente è questa protezione solare di La Roche Posay ve l'ho mostrata in uno dei miei ultimi video haul e tutti mi avete detto sì ti prego parla di questo prodotto provalo siamo curiosi facci sapere allora l'ho testato per due settimane e mezzo quasi tre sto testando tante protezioni solari vi sto menzionando diverse protezioni solari ultimamente e voglio dedicare un video che uscirà nel mese di giugno alle protezioni solari per il viso quindi per quello che ne sto testando tante la Yalu B5 Aqua Gel SPF 30 di La Roche Posay è una crema con protezione solare bella ricca bella e idratante quindi che non è solo trattamento protettivo ma anche una buona quota idratante appartenente alla gamma dedicata all'acido ialuronico quindi alla gamma appunto idratante di La Roche Posay questo prodotto ne uso poca sul dorso della mano poca perché non voglio sprecarla ha la consistenza di un gel cremoso vedete azzurrino ha la consistenza di un gel cremoso che ha un suo spessore si massaggia e diventa niente sul viso molto piacevole da utilizzare molto fresca come texture ha un profumo non dico forte però che si sente quindi ha una fragranza delicata fresca piacevole ma ha una fragranza ve lo dico perché non a tutti piace la fragranza nei prodotti di skin care mi piace moltissimo il packaging che è uno squisitube quindi un tubo da strizzare però con l'erogatore a pump che vi permette di dosare molto bene il quantitativo io ne applico circa 3 pump circa 3 perché a volte ne applico anche un po' di più dipende dalla giornata che ho davanti però 3 pump le applico e ha una texture fondente sulla pelle incredibile ha da un estremo effetto idratante quindi la potete usare anche da sola in estate durante il giorno senza per forza applicare sotto la crema solare ha come dicevo una quota idratante bella e importante ha un finish luminoso e la consiglio per chi ha la pelle normale secca disidratata non la consiglio per chi ha la pelle mista grassa perché secondo me potrebbe essere un po' pesantina però se vi capita provatela sul dorso della mano sul viso perché secondo me è davvero un ottimo ottimo prodotto l'unica pecca è che ha un SPF 30 e non 50 io preferisco il 50 perché soffro di macchie e qualunque protezione in più io possa chiedere al mio solare lo faccio la chiedo però è fantastica veramente ottima penso che smetterò di usarla adesso che andiamo incontro alla stagione più calda che penso che quando uscirà il sole quello bello pieno che scotta la lascerò da parte adesso l'ho utilizzata nelle ultime settimane che ha più pevuto che altro però se non avete esigenze di usare una protezione elevatissima tipo nel mio caso datele un'occhiata perché secondo me è veramente molto molto valida l'ultimo prodotto che vi voglio segnalare purtroppo ve lo mostro a metà nel senso che l'ho dimenticato in ufficio perché ce l'avevo in borsa oggi e l'ho lasciato in ufficio e quindi ho solo la confezione è un profumo o meglio un'acqua fresca un'acqua profumata di Codalie si chiama Tè de Vigne ed è la fragranza classica diciamo di questa gamma di profumi come dicevo questa è la confezione di latta e cartone molto molto carina domani recupero il prodotto e vi pubblico qui sullo schermo una sua foto in modo tale che possiate che possiate vederlo ha il vetro color viola color vinaccia ed è un profumo buonissimo non so descriverlo perché sapete che non ho l'abilità di descrivere i profumi però ha un profumo veramente molto femminile fresco intenso allo stesso tempo dico fresco perché è un profumo leggero è un'acqua fresca non è un profumo vero e proprio quindi intenso e concentrato ha una sua profondità una sua femminilità è un po' sensuale però allo stesso tempo è fresco leggero è ottimo anche da utilizzare adesso che fa un pochettino più caldo mi piace veramente un sacco e lo sto utilizzando non stop da quando codali me l'ha inviato quando l'ho ricevuto ho pensato non lo so se possa fare il caso mio io poi sono molto scettica con i profumi lo sapete me ne piacciono in pochi spesso mi fanno venire mal di testa e quindi l'ho provato con un po' di distacco con un po' di tentennamenti la prima volta ma mi sono dovuta ricredere perché è buonissimo e l'ho postato di recente su instagram sul mio profilo instagram nelle stories e tantissimi di voi mi hanno risposto è il mio preferito ce l'ho lo uso da un sacco di tempo è buonissimo quindi è un profumo è un prodotto che ha veramente un seguito è una fan base molto molto sentita io arrivo tardi però ho scoperto che mi piace a tanti tanti di voi e adesso piace da morire anche a me quindi ve lo consiglio date un'occhiata a questa gamma di profumazioni l'estate scorsa utilizzavo se vi ricordate il soleil de vigne che è quello giallo che profuma proprio di sole di estate di protezione solare ma per i miei gusti va bene proprio per l'estate piena per quando siete proprio in vacanza al mare oppure per i mesi di luglio e agosto questo è un profumo invece che secondo me tutto l'anno comunque in questo periodo da città va benissimo e vi dirò di più adesso che l'ho scoperto mi è venuta una voglia incredibile è la prima occasione lo faccio quando ho capito in farmacia di annusare anche tutte le altre profumazioni di questa linea perché sono tantissime e sono proprio curiosa le voglio provare perché non pensavo però sono davvero nelle mie corde queste queste profumazioni quindi se anche voi avete problemi con i profumi classici forti preferite qualcosa di più fresco più leggero più adatto anche alla stagione e soprattutto con un prezzo molto più contenuto rispetto ai soliti profumi che si acquistano insomma nei negozi specifici in profumeria date un'occhiata perché io ne sono veramente innamorata ragazzi questo è quanto questi erano tutti i prodotti che ho utilizzato amato apprezzato di più nel corso del mese di maggio non sono tantissimi però sapete come sono fatta non forzo mai la mano per quanto riguarda questi video preferisco mostrarvi pochi prodotti ma che siano effettivamente quelli che ho utilizzato in questo periodo effettivamente quelli che mi hanno che hanno fatto al caso mio nel corso del periodo di riferimento insomma non butto dentro cose a caso giusto per per farvi vedere tanti tanti prodotti diversi ecco spero che apprezzerete se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare qui sotto un bel pollicione e non dimenticate nel caso in cui non l'aveste ancora fatto di iscrivervi al canale cliccando su questo bottone con la mia faccia io vi mando un bacio enorme vi auguro un'ottima giornata e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video ciao